Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per presenza di personale su strada tra Sassomarconi e V1 Variante nelle due direzioni. In A11 code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1. In FIPD code a tratti verso Firenze per rispostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per una riprogrammazione dell'offerta commerciale. Quest'oggi viene effettuato il treno straordinario 6068 Ronta-Firenze-Santa Maria Novella con fermate intermedie Borgo San Lorenzo, San Piera-Sieve, Vaglia, Fiasole e Caldine e San Marco Vecchio. Per il traffico urbano di Firenze in via Maragliano sabato e domenica sarà effettuato un intervento edilizio con piattaforma aerea con interruzione della circolazione e della svolta su Viale Redi. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Può aversi in Toscana Info un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.